Che ne pensi Beppe? Hanno giocato una partita attenta, ricca di veloci sortite offensive. Studiando così le caratteristiche principali di questo grande periodo, una mi sembra di poter dire, l'hai sottolineata anche tu nel primo tempo, questa grande capacità di andare a attaccare subito il pallone e quindi poi la possibilità di ripartire anche velocemente proprio perché riconquisti palla alta. È una squadra che durante tutto l'anno difficilmente ha dei cali fisici, non riesce sempre a mantenere una condizione atletica invidiabile, è una squadra che corre sempre molto e quindi ti permette questa possibilità di andare a conquistare palla alta perché devi spendere sicuramente tante energie perché devi andare sempre a pressare. E si chiude qui il nostro collegamento, appuntamento alla prossima occasione con Fabio Caresse e Beppe Bergomi. Grazie a tutti. Grazie.